Guardami, Michael Sera ha ceduto la sua faccia, come Annie Murphy ha ceduto la sua per il ruolo di Johan nel livello 1 e Sam Hayek per il ruolo di Johan nel livello 2 e per quello di se stessa nel livello 1. Aspetta, aspetta, aspetta. Io non interpreto me stessa. Io sono me stessa. Sì, sì, ma è normale che tu lo creda. Sei programmata per interpretare te in questo livello. Cosa?